L'articolo 3 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo parla di tre diritti fondamentali dell'uomo, il diritto alla vita, la libertà e forse unica norma alla sicurezza della propria persona, nemmeno nella nostra Costituzione troviamo il diritto così e si decido al diritto alla sicurezza e come operatori delle forze di polizia, di tutte le forze di polizia che in questo momento rappresento, ci riconosciamo fortemente nel dovere prioritario di assicurare il rispetto di questa precondizione indispensabile perché la libertà e il diritto alla vita passano trovare tutela e soprattutto perché ci sia una sicurezza senza odio. Dobbiamo un ringraziamento all'osservatorio che con tanta attenzione segue queste situazioni e noi secondo me come istituzione abbiamo davvero un dovere morale ma davvero qua con il capo della polizia noi lavoriamo sempre su questi aspetti perché poi tutto, guardate molto è la prevenzione, la prevenzione è, perché la repressione è la fase successiva quando proprio non ha funzionato, quando andiamo alla repressione vuol dire che non ha funzionato la fase preventiva ma noi quello a cui dobbiamo tendere è soprattutto la fase iniziale, non dobbiamo arrivare. Il compito primario oggi dalle istituzioni è ritornare ad essere presidio nel paese di tutto questo attraverso quella necessaria azione di governo ai quali siamo chiamati, istituzioni forse diciamo forse dell'ordine ma anche di promuovere quelle dinamiche della società civile che siano capaci di incarnare questa scelta fondante del nostro essere cittadini e del nostro essere stati italiani. Certamente per rendere ragione di quella memoria che oggi siamo richiamati a portare avanti ma per dare risposte nuove alle forme dell'odio che oggi si stanno seguendo nella nostra società. Io sono per la scelta, parlo sempre ai ragazzi della scelta e solo con la scelta di tutti i minuti, di tutti i giorni, di tutti gli atti da lavarsi i denti fino a decidere chi sposare o no. Ma non ero e non sarei mai stata un'assassina, faccio fatica anche con le formiche. Sicuramente ho fatto una scelta ma che è stata una scelta naturale. Io non ero come lui. Era lì la scelta.